Musica Tranquillità, storia, cultura e divertimento con un programma ricco di iniziative per grandi e piccini è questo che piaccia ai turisti che scelgono la provincia pesarese come meta per le loro vacanze il presidente degli albergatori Luciano Cecchini questa mattina ha stilato un primo bilancio positivo anche alla luce delle prenotazioni registrate sino ad oggi Diciamo che il bel tempo ha aiutato questa stagione turistica che sta andando alla grande Sì, grazie al bel tempo, al sole, al mare, l'entroterra che noi abbiamo avuto un discorso molto molto prolungato dei nostri vacanzieri come si diceva una volta il turismo quest'anno è andato molto bene, gli alberghi sono quasi tutti pieni non solo gli alberghi, i B&B, i campeggi, veramente è stata una cosa veramente importante I turisti da dove vengono? L'Italia ha fatto il 75% ma abbiamo avuto un 25% a livello marchigiano di stranieri olandesi, inglesi, tedeschi, che ormai i tedeschi sono qui di casa Anzi, bisogna dire che abbiamo trovato molti svizzeri ma gli svizzeri stanno anche acquistando appartamenti perché hanno il loro potere di acquisto molto importante nel nostro euro Mare ma anche introterra? Molto introterra, abbiamo fatto questa coppiata vincente Il turista che arriva, arriva naturalmente per il mare però scopre il nostro introterra che è qualcosa di molto importante non solo le bellezze, le colline, i borghi ma abbiamo anche un discorso dell'arte di questi castelli, queste rocche che sono eccezionali abbiamo avuto dei picchi su Mondavi, delle grosse visite anche su Pergola con i bronzi dorati, Urbino ne fa da padrona poi abbiamo i 600 anni del Duco d'Urbino e bisogna dire che è un qualcosa di importante Ma visti i rincari generalizzati le famiglie stanno un po' più attente? Sì, quello è vero quello è vero anche se gli alberghi sono pieni abbiamo visto un consumo all'esterno non molto basso ma la gente sta molto attento sugli acquisti, sugli ristoranti, le pizzerie la gente non è più quella di una volta che andavano al ristorante 20 persone grande cena o grande pranzo stanno molto attenti perché con questi rincari sulle bollette la gente ne parla e è un po' attenta però noi puntiamo molto sulla qualità abbiamo venduto tanta qualità negli altri anni quando gli altri facevano dei prezzi stracciatissimi e questo ci ha ripagato Ma state progettando qualcosa anche per i prossimi mesi, anche settembre? Settembre abbiamo adesso i cori polifonici che stanno portando avanti e poi anche la fine di agosto un grandissimo campionato internazionale di paracadutismo che è quello ormai è conclamato tutti gli anni o europeo o mondiale o nazionale il paracadutismo sta portando anche nel periodo invernale parecchia gente e poi ci saranno altri eventi che ci stiamo già lavorando l'assessore già ne abbiamo parlato e portare la gente in bassa stagione è quello che ci aiuta un po' di più Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!